vai ciao a tutti ragazzi benvenuti nella seconda puntata di pokemon scudo e franci dove eravamo rimasti? eravamo rimasti che dovevamo andare a prendere il pokedex etz etz va bene allora ragazzi che dire tutti al laboratorio dove sarà il dottor occo? esisterà ancora il dottor occo? sarà morto ormai, sarà la nipote del dottor occo andiamo franci, portaci da lui parliamo con questi no? vediamo perché l'altra volta non c'è neanche parlato ok, l'antichologia fotopassi al gigante ora fordottare o scambiare pokemon un capitolo va chi andrà giù? oh raga notate la mia maglietta forza andiamo questo è il primo passo del cammino per diventare campione bene io vado subito a portare con qualche pokemon solatico per allenare un po' snow ball scusate tu invece devi andare al laboratorio che sarà quello lato rosso si 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 no hai vedi che c'è col tetto viola vai 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 e qui? che facciamo? facciamo il giro no no devi fare il giro un po' da indietro eh si eh dove andare lì qua vai 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 e mi ha passati più in parte e mi ha passati più in parte e non viene andare lì qua e non viene andare lì qua no non lottiamo niente vai vai no non vogliamo perdere tempo no non vogliamo perdere tempo dai giù ok prendi la foto prendi la foto prendi la foto ok il giro l'uomo prendi la foto ti devi andare ai per i un po' due ma per这 non non il giro è si accorgete le ripetiamo proviamo a doppia Vieni via, vieni via, vieni via! No, non vogliamo se vieni via Vieni via Vieni via Andiamo prima a vedere il poker Perché se non c'è il poker Sto piccolo, non c'è il poker Si è attaccato a lui Vai Via 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 Vieni via Vieni via R experimento Come Nu Sì, sì, sì. abbiamo un po' di problemi con i control andiamo già laggiù no no dov'era questo e così sei riuscito a trovare il lavoratore veramente hai un buon senso di aiutamento abbiamo il gheppa che fa caccare ok si va bene si va bene si manda le ciance andiamo si si questa biblioteca ci piace si si quanti tipi interessanti ciao iai aiamp chi hai cos su lei sta fare chi ma che bello vieni qua da me vieni da dallo zio claudino che chi è quella ciao 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 ti ricordi? vai, però no la rotina non si è legnata c'è una macchina che trovi anche se per l'altro si perde lo stesso comunque dimmi che mi intende di continuare si grazie cazzo ho la fremuta che ti posso usare il poketens se lo faccio che ma se chi Ciao Iappe! Ciao Iappe! Ciao Iappe! Io l'hai due cruchetti! Un giacicciotto! Ehi l'allenatore, scusa se disturbo! Si è usato all'otera poco, ma vero? Quindi devi averci avuto un po' che da X! Ma via per due! Perfetto, sai, io ho un po' l'allenatore prima di arrivare sui cruchetti Hai tenuto la funzione Hai messo la funzione! Hai aggiunto la funzione! Usa la panda EPS di un po' cioè i suoi consulti Perfetto! 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 Andiamo a vedere! Vabbè! L'ultima casa! L'ultima casa! Sì, ecco qui a farvi domani! Sì, ho preso un po' Perfetto! 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 Vediamo che palla cres tanta Perfetto! Molto mi pendevo! Io dove andavo dall'altra parte dobbiamo perdere tempo Francia è la mia volta che vedo un cento poco ma direi che qualche migliaio di cento pokemon li abbiamo visti con tutte le versioni si allora non hai bisogno che ti spieghi come funziona no grazie della betta ah prima mi porti qua e poi te ne vai io penso che sono andato la vabbè compriamo due cose andiamo lì dai andiamo per le cellule qua se desideri quante soldi abbiamo? 30.300 allora prendiamo fai così pozione fai fai 10 bo 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 20.000 va bene ok poi andiamo fai ora antidoto vai antidoto vai 10 10 va bene va bene va bene va bene va bene va bene ora prendiamo anti scottatura paranzi ora fai anti paralisi vedi anti paralisi anti paralisi anti paralisi avanti paranzi e revitalizzati e rivitalizzate ne prendiamo tre o quattro vedi ok basta non ho troppi se riesci va bene bu andiamo vedrai che pigliaccio qua non ce ne sono non ce ne sono andiamo verso il secondo paese sì ando ti dai che'ma travo a a a a a a a a a non l'abbiamo non mi piace non mi piace ecco guarda un po' non mi piace ma mi piace ecco guarda 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 Grazie a tutti. 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 Ok. No. 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 Qual Pendiamo? No. Cinque. E' già monta? No. No. Va bene neppi questo. Let's go отсRock. Andiamo a pegare la professoressa. Sì, sto ruocando qui, sì, vai, abbiamo un Yampe, tipo eletto, tipo Pikachu, il Yampe, il Yampe, il Yampe, vai, 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 facciamolo nero, facciamolo nero, facciamolo un po' che non dici qua, marzo, pizzo marzo, ha un po' sulla maglia, potrebbe aver infilito i suoi posti, l'unico che non abbiamo preso ragazzi, io saprei che non abbiamo preso, puoi fare questo tirario dopo? Non vai, non vai, non vai.. lo è contrario, non vai, è andata? Si, si, hai bisogno di aver schiacciato? Sì, sì, io farei bravo, sì, sì, perché è una cosa amica, certo, e ne facciamo un altro. No, 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 grazie, grazie. Marco, bel maione, complimenti. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no va bene va bene è un bel completino ma lascia stare ok bravo ultimo vai facciamo fuori e poi andiamo a dare la posizione e poi ci provo e per me tu hai un altro giusso il gemello dell'altro eh vedi che sei al sommaglio il gemello allora lui aveva questo gli altri vediamo e la battaglia e la battaglia no provocazione e la battaglia è quella che ho messato qui attravie usando se è qui no 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 i amper è scarso 8-8 o rocchi di otto vai vai puoi farci vai aspettate questo perchè è lui è un insetto malattico noi gli mandiamo luceppino e lo mangiamo è diff balance eh vai no,no 2012 non perdi norte perdi la perdi lo stesso ultimo quattro lontai aspettate aspettate è una cosa d'allegra hai visto? è una cosa d'allegra vale vai vai vuoi attacca ap ok Gli altri? Sì, piangi dopo, che ne vengono. Mi stai facendo fare tardi, no? Sì, ciao. Sì, ciao. Sì, ciao. Vai. Minchia come vecchia. Sì, sì, sì. Sì, non me lo dai, no? La legge, fra. Mi speravo tanto che mia nipote continuasse in questo, ma... Ah, abbiamo delle visite. Scusate, non era fuori. Benvenuti, don Maria. Io sono qui. Prego, andrata. Flora mi ricorda il nome di una brucia del vecchio... Ti ricordi? Grazie. 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 Vincere. 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 Ecco. Vincere. Dai... sei tutta spancore. Dai, franci! Sì, sì, sì. Grazie a tutti. 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 Un saluto.